questo rovetto è esposto al sole e ne muore qui arriveranno molto molto prima che da altre parti della zona di ombra guardate qua guardate che bellissima fioritura che c'è così a occhi e croce come vedete sono già graniti così a occhi e croce diciamo alla fine di i primi di luglio ci sarà la vincosa alla raccolta delle amore per fare una deliziosa marmellano